Avrebbe perso il controllo del mezzo il conducente andandosi a schiantare contro gli archi del Belvedere San Giacomo sul lungomare Vittorini nel centro storico di Ortizia in provincia di Siracusa. L'incidente è avvenuto poco dopo le 4 del mattino. Le vittime sono due giovani tra i 17 e i 22 anni mentre altri due sono rimasti feriti in seguito allo scontro dell'auto sulla quale viaggiavano, indaga la polizia. I giovani avevano trascorso la serata a Ortizia e stavano facendo ritorno a casa, ma per cause da accertare il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare. I vigili del fuoco hanno estratto uno dei quattro dalle laniere. Immediato è il trasferimento in ospedale con il 118, ma per due di loro non c'è stato nulla da fare.